La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Salerno, nello specifico nella Piana del Sele, con obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di uno straniero 34enne nato in Ghana, ritenuto responsabile dei reati, ovvero di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'immigrato è accusato di aver reclutato mano d'opera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, anche in nero, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, in violazione dell'orario di lavoro e con retribuzioni di formi dai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali. I lavoratori venivano impiegati in particolare per le coltivazioni di raccolti dei campi tra Battipaglia e la Piana del Sele.